volevo ricordarvi che a breve arriverà l'xtb investing day per il 2021 3 ore di contenuti educativi il 21 aprile con tre speaker d'eccezione abbiamo marco casario mauro caimi e leonardo pinna mercoledì 21 aprile alle 17 30 ore locale la partecipazione è gratuita ricordo che il link per registrarsi gratuitamente a questo evento lo trovate qui sotto in descrizione nel video bene non vi rubo altro tempo ritorniamo al video ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale io sono pasquale questo io risparmio e bentornati in un nuovo video oggi andiamo un attimo a approfondire un'altra categoria di prodotti come sapete a me piacciono tantissimo i dividendi piacciono molto i reeds ma non è l'unica categoria di prodotti che può essere utilizzata per investire in dividendi ne esiste un'altra i bdc business development company oggi andiamo a vedere una piccola idea di cosa sono i bdc come funzionano quali sono i rischi e quali sono i pregi e soprattutto vi do cinque titoli che io in watch list anzi uno ce l'ho già in portafoglio e questi titoli molto probabilmente li andrò aggiungere in futuro nel mio portafoglio e per cui volevo un attimino andarvi a fare vedere questi cinque titoli e scambiare delle opinioni insieme a voi ovviamente vi ricordo che questi non sono consigli finanziari ma sono solo le opinioni di un semplice ragazzo che porta avanti la propria strategia di investimento e vuole condividere delle opinioni assieme a voi prima di cominciare ovviamente obbligo ricordare che mi potete trovare ogni martedì e ogni venerdì su questo canale con un video nuovo ogni giovedì con una live poi ogni lunedì con un nuovo articolo sul mio blog www.risparmioinvesto.com e anche su instagram io underscore risparmio partiamo subito con questa carrellata ma dopo la sigla ebbene dopo questa bruttissima o bellissima sigla andiamo un attimino a vedere queste slide i best bdc le migliori 5 business development company che io ho in watchlist per cui sono le migliori nella mia watchlist potrebbero essercene di più belle di più buone queste sono le mie opinioni prima di tutto andiamo a vedere un attimino cos'è un bdc la business development companies in generale sono delle società di investimento chiuse crf closed and founds il loro modello di business prevede una realizzazione di investimenti debito e di nazioni in altre società per cui all'esterno in genere piccole o medie queste società sono destinatarie e potrebbero non avere accesso ai mezzi normali tradizionali per la raccolta dei propri capitali questo le rende dei partner adatti per le varie bdc e ce ne sono tante sul mercato di bdc queste società investono in una varietà di aziende per cui hanno un portafoglio molto ampio che può coprire diverse categorie di investimento diverse asset class ma solitamente sono cercano diciamo di ampliare tantissimi portafogli per ridurre i rischi tra cui il turnaround le aziende in via di sviluppo e anche quelle che hanno delle difficoltà economiche un'azienda per potersi qualificare come bdc deve investire almeno il 70 per cento del proprio patrimonio in società private o pubbliche con capitalizzazioni di mercato di 250 milioni di dollari o inferiori e qui parlo di dollari perché prettamente sono aziende americane quelle che sono andando a presentare e bdc fanno soldi come vanno a investire con l'obiettivo di generare un reddito per cui dei dividendi così come le plusvalenze sui loro investimenti se e quando le società a cui hanno fatto i prestiti o cui sono sono andate diciamo all'interno come partecipanti vengono vendute in questo modo i bdc gestiscono i modelli di business simili a quelli di una società di private equities o di venture capital la differenza principale con le private equity e le venture capital sono in generale limitate al fatto che queste due che ho appena menzionato sono più per gli investitori accreditati o quelli grandi quelli istituzionali mentre chiunque può investire una bdc così come un rite semplicemente andando sui mercati azionali con un broker e comprando le azioni perché ha senso investire in bdc l'ovvio appeal dei bdc sono gli arrivati rendimenti da dividendi non è raro trovare che i bdc abbiano dei rendimenti da diventi superiore al 5 per cento in alcuni casi forniscono anche un rendimento superiore al 10 per cento e tra l'altro non l'ho menzionato nelle slide ma la maggior parte dei bdc quasi tutti danno rendimenti mensili per cui i dividendi vengono erogati con cadenza mensile ovviamente gli investitori dovrebbero condurre una quantità approfondita di due diligence per assicurarsi che i fondamentali sottostanti supportino il dividendo se c'è un payout ratio del 5.000 per cento e l'azienda è piena di debiti insomma bisogna studiarle bene ovvio dire perché però i bdc prestando soldi possono essere sempre più indebitati di quanto non abbiano asset questa è una cosa da tenere in considerazione è più la forchetta fra gli asset e il debito che bisogna andare a valutare e non se c'è più debito che asset poi in effetti sono molteplici fattori di rischio che gli investitori dovrebbero considerare prima di conoscere investire in bdc il primo luogo in bdc sono spesso fortemente indebitati come ho detto poco fa questo risultato è comune a bdc in quanto il loro modello di business prevede l'assunzione di prestiti per effettuare investimenti in altre società questo risultato finale che bdc sono spesso società che utilizzano una leva finanziaria significativa per cui quando uno va ad analizzare un bdc se va a guardare che ha troppo debito ha già perso in partenza perché non sono quelli i dati da andare a valutare avrà sicuramente molto spesso più debito che asset quali rischi sono correlati a bdc uno dei rischi principali è che quando l'economia è in aumento per cui c'è un mercato bullish la leva finanziaria può aiutare ad amplificare i rendimenti positivi per cui uno va a investire a prestare soldi un'azienda che in continua crescita ovviamente il business continua a crescere ci sono più aziende che nascono aziende più aziende che hanno bisogno di soldi e più bdc che erogano prestiti e dicevano appunto il pagamento degli interessi tuttavia avvescio della medaglia in questo caso è che la leva finanziaria può accelerare le perdite in caso dei mercati orso o peggio ancora nelle recessioni un altro rischio che va tenuto in considerazione e cui bisogna essere consapevoli sono i tassi di interesse perché il modello di business del bdc utilizza presentemente il debito e per questo gli investitori dovrebbero comprendere molto bene come funzionano i tassi di interesse prima di investire altrimenti ci si brucia veramente il capitale infine il rischio di credito è quello diciamo maggiore cioè il corrispettivo per gli supplementari per gli investitori i bdc fanno investimenti in piccole e medie aziende molte volte anche in aziende che sono tenute che per cui la proprietà è da una singola persona del singolo imprenditore pertanto la qualità del portafoglio del bdc deve essere valutata per assicurarsi che questa azienda non sperimenti un elevato livello di inadempimenti per cui di mancati pagamenti da parte di chi ha ricevuto i prestiti da parte delle bdc e quindi questo possa portare dei risultati negativi al bdc e al collasso dell'azienda di per sé in questo caso ovviamente si avrebbe una capacità di mantenere le distribuzioni di dividendi agli azionisti negativa o peggio ancora si rischierebbe che il bdc dichiari bancarotta guardiamo cinque bdc che mi piacciono tantissimo la prima è main street capital ci ho dedicato un video apposito e ve lo lascio qui da qualche parte è nella finestra il ticker è main ed è quotata ovviamente tutti questi sono quotati in america chi è main street capital? Main street capital fornisce debito ed equiti a lungo termine alle società a media e bassa capitalizzazione di un mercato di riferimento che è quello americano ma non è detto può anche investire all'estero main street capital questo definisce le società del mercato di medio e basso medio e bassa capitalizzazione come generalmente quelli che hanno ricavi tra i 10 milioni e i 150 milioni di dollari annuali ogni bdc si dà diciamo le sue forchette a cui andare a in cui andare a investire gli investimenti della città delle società in genere supportano acquisizioni gestionali di capitalizzazione finanziamenti per la crescita e rifinanziamenti e acquisizioni e comunque se avete voglia di andare a guardare il video che ho dedicato a main street perché vado anche a spiegare tutta quella che è la diversificazione delle varie aziende in cui main street capital va a investire alla fine del 2020 main street capital aveva un interesse di 70 società per cui aveva prestato soldi o compartecipava 70 società del mercato appunto delle medio e bassa capitalizzazione 42 società del mercato di media capitalizzazione e 63 investimenti in prestiti privati come dicevo all'inizio davanti alla spiegazione c'è anche chi è un imprenditore molto grande che non è appunto una società e ha bisogno di soldi e può ricevere appunto un aiuto dalle bdc come in questo caso la società ha una capitalizzazione di mercato di 2.4 miliardi di dollari e ha generato 138 milioni di dollari in intrate nette dall'investimento nello scorso anno nel 2020 la seconda società si chiama gladstone investment corporation e gladstone è un grande gruppo che ha diverse aziende quotate in borsa questa è una di quelle è del bdc ma ricordo che ce ne sono altre io ne ho due tra l'altro in portafoglia di questo gruppo gladstone commercial che è un ritt normale poi gladstone farmland che è un ritt che si occupa di possedere dei campi coltivati in questo caso invece gladstone investment corporation è un bdc con un dividendo 6.94% e il ticker gain la gestione di gladstone è molto più piccola rispetto gli altri bdc perché ha una capitalizzazione molto più bassa ed è specializzata in investimenti nel mercato medio basso ciò significa per questa azienda avere investimenti in aziende che hanno meno di 100 milioni di capitalizzazione ma a questo punto anche per quelle aziende che siano abbastanza grandi da non poter accedere facilmente al finanziamento come le aziende normali con mezzi convenzionali e sono aziende che come gain sono ottimi esempi per gli investitori in quanto si fanno avanti per riempire una nicchia a beneficio di tutte le parti proprio perché vanno a indirizzarsi su una ben precisa tipologia di azienda come capitalizzazione queste società più piccole hanno bisogno di finanziamenti per operare e crescere i direzionisti di gain per cui di gladstone investment corporation ottengono un dividendo su cosa man mano che i pagamenti dei prestiti vengono effettuati anche la più ampia economia statunitense ne trae vantaggio perché le piccole imprese trovano capitale di cui hanno bisogno per diventare più grandi gladstone investe prevalentemente nel mercato usa è un dividendo del quasi 7 per cento male non fa ovviamente come dicevo prima essendo una azienda piccola ha dei rischi più correlati perché ha una capitalizzazione molto più bassa il terzo bdc e apollo investment group col ticker inv con un dividendo al momento nella registrazione di questo video che il 10.02 per cento apollo investment è il ramo di una massiccia società di private equity che si chiama apollo global che attualmente comanda oltre 480 miliardi di dollari di asset per cui di per sé la casa madre è enorme in effetti a invi origina sempre parte del debito che aiuta a finanziare accordi e le strutturazioni a cui è presa diciamo nei suoi investimenti dalla sua controllante madre attraverso offerte di debito garantite e anche non garantite questo bdc che fa fornisce un ottimo rendimento al momento il 10 per cento non è da buttare e oltretutto come ho detto poco fa alle spalle una casa madre gigante con 400 miliardi di dollari di asset e mentre è sempre rischioso fare affidamento sul debito non garantito c'è un prestito senza protezione in caso di fallimento aiuta certamente sapere che a invi abbia un legame diretto con gli investor senior della casa madre che danno come potrebbe essere quasi considerata una fidei usione a coprire diciamo all'azienda e nei suoi movimenti poi abbiamo ares capital corporation coltiche a rcc con un dividendo interessante 8.27 per cento ares capital corporation una bdc di finanza specializzata special financing che si concentra sulla generazione di core income per cui su dividendo e di capital gain attraverso investimenti in debito ed azioni per cui non va solo a prestare soldi va anche a investire in equities la società investe principalmente in società middle market statunitensi ma anche società più grandi per il suo core business è negli stati uniti ma non si occupa solo di middle market ma anche in società leggermente più grandi il suo portafoglio è composto da presti garantiti senior di first second lien e da debiti mezzanini diversificati per industria e settore ovviamente l'ho detto anche prima non l'ho specificato per ogni azienda però la parte fondamentale dei bdc per essere solidi e di diversificare in molteplici settori e molteplici aziende di molteplici grandezze per avere una copertura maggiore ares capital è uno dei bdc più sicuri al momento della registrazione di questo video dato che il suo bilancio si trova in una posizione molto forte con una qualità patrimoniale solida e stabile e una struttura di passività diversificata a lunga durata proprio quello che ho appena detto anche partecipazioni molto diversificate con una forte copertura degli interessi il che riduce il rischio di default quasi a zero ovviamente al momento della registrazione di questo video il suo vantaggio competitivo deriva dal fatto che ha delle dimensioni grandi che sono superiori alla media dei bdc più grandi che attualmente sono presenti sul mercato l'ultima azienda è Prospect Capital Corporation ticker PSEC con dividendo del 9% chi è Prospect Capital Corporation? è una società di appunto bdc che fornisce debito privato e private equity alla società di middle market degli soli Stati Uniti d'America la società si concentra sul prestito diretto a società gestite dai proprietari nonché sulle transazioni sostenute dagli sponsor per cui questa azienda si concentra tantissimo su quelle aziende che hanno di per sé l'imprenditore come interlocutore principale Prospect investe principalmente in prestiti senior di primo e secondo livello e debito mezzanino con investimenti azionari occasionali in casi occasionali raramente può anche investire in equiti l'obiettivo di investimento di Prospect è generare ovviamente il reddito corrente con un 9% di dividendo male non fa e l'apprezzamento del capitale a lungo termine per cui il cosiddetto capital gain la crescita di questa azienda è stata difficile nell'ultimo decennio perché dal 2012 i proventi netti dai investimenti hanno faticato a crescere parte di ciò è dovuto all'eccessivo numero di azioni che Prospect ha immesso sul mercato che oggi è circa 6 volte superiore rispetto ai 10 anni fa mentre ovviamente è tipico per i BDC emettere nuove azioni per cercare di andare a racimolare ancora più capitale la diluizione di Prospect è stata eccessiva e questo bisogna tenerlo in considerazione molto probabilmente quello che si otterrà da questa azienda è più un dividendo che non un capital gain e bisogna monitorare la situazione perché ovviamente più azioni si mettono sul mercato più vuole dire che la società fa fatica a trovare i capitali potrebbe non è detto che sia così però potrebbe essere così e ovviamente il capital gain va a farsi friggere quali sono le mie conclusioni su BDC a me è una asset class che piace tantissimo che voglio portare avanti come investimento nel tempo attualmente ne è solo uno non è detto che li metta tutti e 5 questi ma 2 o 3 mi interessano e trovo un asset class molto interessante perché come i REIT che vengono messi da parte perché si pensa solo che siano delle macchine da dividendo e basta e che non ci possa essere un capital gain in questo caso il capital gain è ancora più evidente rispetto ai REIT perché le aziende che appunto vanno a finanziare altre aziende per cui sono aziende finanziarie tendenzialmente crescono di più rispetto a tutto quello che sono altre asset class potrebbero ovviamente non è mai dato per certo se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo di lasciare un pollice in su che farebbe molto bene l'algoritmo di YouTube e anche la mia autostima se sei nuovo iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo anche per oggi è tutto e per favore lasciami i commenti qui sotto su cosa ne pensi su questo video e su questa asset class e ci vediamo al prossimo video ciao